Ben ritrovati e ben ritrovati su In Genere Horror, io sono Greg e su Prime Video è disponibile un film che da noi era inedito, inedito in Italia, quindi è un'uscita del 2023 di fatto, anche se il film è in realtà una produzione del 2021. Il titolo è Irwig e la bambina coi denti di ghiaccio come sottotitolo ed è un film diretto da Lucille Asilalilovic che è la moglie di Gaspar Noé, pochi film nella sua carriera, ogni tanto ne dirige uno però tutti piuttosto particolari, molto particolare lo è anche questo. Siamo in Europa, siamo tra gli anni, fine anni 50, inizio anni 60, lo si capisce poi da alcuni documenti che si intravedono anche nel film, un uomo di nome Albert deve badare ad una ragazzina di nome mia che ha questa caratteristica, è senza denti e questo Albert vediamo che ne raccoglie la saliva con un marchigineo, con un attrezzo particolare, queste ampolline che mette vicino alla bocca della ragazzina, ne raccoglie la saliva, la mette a ghiacciare nel freezer e poi ne fa delle dentiere, una dentiera di ghiaccio. Ogni mese questo Albert, questo uomo riceve, quindi deve seguire questa ragazzina e ogni mese riceve un assegno, una telefonata da un misterioso, da una misteriosa persona e un assegno per mantenerla, finché poi con l'ultima telefonata non viene a sapere che dovrà curare curarsi della bambina per l'ultimo mese, per l'ultima volta e poi cominciare a prepararla per il trasferimento, per un trasferimento che poi vedremo durante il film. È un film criptico, è continuamente in bilico tra il sogno e la realtà perché alle volte ci si domanda se veramente tutto quello che viviamo attraverso poi la rappresentazione di un personaggio principale che è Albert, anche se non è l'unico, ci sono, ovviamente c'è Mia, la bambina con i denti di ghiaccio, ma in realtà è tutta la vicenda sembra girare attorno a quello che vede, sente, percepisce Albert, questo uomo che ha la mania di, cura manicalmente una vetrina all'interno di cristalli, di bicchieri di cristallo che rimandano a quello che probabilmente anche sua madre faceva, poi scopriremo molte cose su Albert, ma sempre un po' alla volta, sempre all'interno di un film che è decisamente ipnotico, che è volutamente basato sul non detto, ci sono i silenzi che dominano il film, sono pochissimi dialoghi, sono riempiti questi silenzi da dei rumori, da dei suoni, sostanzialmente tutti efficaci e tutti poi preminenti, tutti poi funzionali anche alla vicenda, è facile non trovare un filo logico però in tutta la storia perché comunque è volutamente non spiegata, non direttamente spiegata, non che alla fine sia facile trovarne anche una lettura univoca e così poi conclusiva perché appunto il personaggio di Albert e i personaggi che gli stanno attorno sono veramente di difficile interpretazione, diciamo che al di là di quelle che sono le vicende che principalmente accadono a Mia perché un po' è lei la situazione, la parte debole di una vicenda, cioè sembra essere lei quella a subire le manie di questo personaggio che comunque si prende cura in maniera molto amorevole della ragazzina, però deve subire questi impianti, queste continuamente le mani in bocca con queste dentiere, questa dentiera di ghiaccio che poi verrà sostituita da un altro tipo di dentiera, però ecco da qui in avanti probabilmente devo avvisare chi non avesse ancora visto il film che probabilmente tutto quello che andrò a dire potrebbero essere inizialmente di piccoli spoiler fino effettivamente a parlare in maniera aperta anche del finale perché altrimenti un film così criptico, così enigmatico si fa veramente fatica ad analizzarlo se non si cerca di capire volta per volta tutto quello che accade, le tante cose che accadono in un film tra l'altro lentissimo, quindi al tempo stesso comunque la narrazione prosegue a modo suo in maniera del tutto atipica, poco fluida, ma al tempo stesso riesce comunque ad attirare l'attenzione perché c'è sempre qualcosa che avviene di volta in volta in quello che vediamo e nel comportamento che vediamo tenere i vari protagonisti, quindi attenzione a questo momento io direi c'è tutta una parte che potrebbe contenere inizialmente pochi spoiler ma sempre di più andando avanti nel video, quindi direi spoiler da questo punto in poi. Per dire cosa, per aggiungere cosa, che man mano che assistiamo alle vicende di Albert e di questa bambina si introducono anche altri personaggi, soprattutto quando Albert deve cominciare a preparare mia all'esterno perché sembra essere una ragazzina che l'esterno non l'ha mai visto, priva di denti, chissà perché, forse perché questi denti hanno creato un qualcosa di pericoloso, forse lei è nata già con questi denti visto che poi la madre ha perso la vita al momento del parto e fatalità lei adesso in questo momento denti non ne ha, vengono utilizzati questi denti che si sciolgono perché sono fatti di ghiaccio, solo successivamente verrà fatto un impianto con denti di vetro, ecco che torna il ghiaccio, il vetro, riferimento forse anche alla vetrina, ai cristalli, ai bicchieri, bicchieri che ogni tanto incantano, lo stesso Albert che sta lì a rigirarli, che ne sente il suono quando ci passa sopra il dito bagnato come probabilmente faceva sua madre perché sembra avere questi ricordi, insomma ci si può leggere di tutto andando avanti in questa vicenda, ecco perché mi sono fermato sul discorso dei denti, su cosa potrebbe aver creato, che problema potrebbe aver creato i denti di questa ragazzina, mi immagino possa essere già nata con dei denti affilati, non lo so, questo è solo, sono solo interpretazioni che si possono immaginare seguendo la vicenda, perché? Perché può essere anche una storia di sangue visto che c'è, visto che il sangue alla fine verrà fuori e il sangue in una certa maniera può essere un qualcosa di legato alla presenza o in questo caso all'assenza di denti per una bambina che non esce mai di casa, che quando anche sono in treno ha la tenda che copre la luce di arrivare dall'esterno, insomma non capiamo bene in tutto e per tutto quali siano i problemi di questa bambina, non capiamo in tutto e per tutto anche del personaggio Albert, del fatto che quando se ne va in osteria e incontra questo uomo misterioso che poi però troveremo alla fine della vicenda, reagisce in maniera molto violenta nei confronti di Celeste, la cameriera, ferendola brutalmente in faccia e poi questa Celeste sarà la donna che scopriremo, avrà visto una scena che avverrà dopo, cioè quella in cui appunto Albert porta Mia all'esterno, sono vicino a un laghetto ed Albert si ritrova costretto a tirar fuori dal laghetto Mia che si è lanciata, che si è buttata in acqua e a questa vicenda che verrà dopo l'incontro, dopo il ferimento di Celeste ci porta a livello, in maniera circolare, all'inizio di tutta questa vicenda. Quindi la complessità della narrazione si arricchisce anche da una complessità di schema narrativo e di ritorno a un qualcosa che è avvenuto precedentemente. E chi sono i vari personaggi, visto che abbiamo accennato o accennato al personaggio dell'osteria, quella che offre da bere ad Albert, e che questo personaggio gli tira fuori, in poche parole, è quello che è la vita e il passato di Albert, lui che è stato abbandonato davanti al porto di un orfanotrofio e lo capiamo perché a un certo punto Albert guarda un quadro, questo quadro che è parte centrale del film, non sarà l'unico ad osservare questo quadro, ma ci torniamo, un quadro che raffigura questo grande palazzo che probabilmente è l'orfanotrofio dove è cresciuto, è stato abbandonato Albert. E quindi magari questo gesto di violenza nei confronti di Celeste è un gesto di violenza nei confronti di una ribellione per essere stato abbandonato. Celeste tra l'altro che la vediamo poi osservare la foto di un bambino, probabilmente Albert abbandonato davanti all'orfanotrofio. Questa parte della storia di Albert viene fuori dalla scena dell'osteria, appunto da questo uomo che ne parla parlando del fatto che poi è stato in guerra, che poi ha avuto una moglie, Albert nega di aver avuto una moglie, nega di aver avuto anche una figlia e la figlia probabilmente è mia, visto che alla fine del film la porta in questo centro, da questo uomo misterioso che sarà poi anche il medico di questo centro a fine del film, e viene presentato e vediamo che esiste un certificato di nascita. Quindi sono tutta una serie di situazioni di incastro con personaggi che sono veramente criptici, perché Celeste che può essere la rappresentazione della madre, quindi questo scontro violento di Albert, questa reazione, e la madre stessa, Celeste, che alla fine reagisce nella stessa maniera, lo ferisce nell'ultima sequenza, lo ferisce nello stesso modo, lo addenta, ecco che torna il concetto del sangue e dei denti, in qualche maniera torna fuori, magari qualcosa di ereditario che ha ereditato Mia stessa, ed ecco perché lei è senza denti, per non creare danni come le ha creati quando è nata nei confronti di sua mamma, della mamma di Mia appunto, che è deceduta durante il parto, e questa Celeste che si avventa contro Albert a fine film e lacera la carne con questi denti, quindi il ritorno dei denti, il ritorno dell'elemento sangue che rimane nascosto durante il film, ma che torna in qualche maniera. Ecco sto cercando di tirare fuori un po' tutti i concetti di questo film, che mi rendo conto probabilmente sono confusi nell'esposizione che sto cercando di portare avanti, ma che sono il risultato di un film che è difficile da interpretare e non ha una chiave di lettura così semplice, proprio perché la stessa regista probabilmente non voleva darne una chiave di lettura semplice, ma dare la possibilità di essere un film che è immersivo, labirintico quasi, anche nella struttura narrativa, labirinti con i personaggi, chi è il benefattore che aiuta Celeste dopo il ferimento, insomma ci sono tutta una serie di incastri, si possono trovare dei personaggi che possono essere un tutt'uno, Albert può impersonificare, può avere dei contatti con tutti questi, Albert potrebbe essere quello che porta Mia in questo centro, ma in realtà è lui che all'interno di uno stesso centro psichiatrico o sta sognando tutto, o sta ripercorrendo la sua vita, ci sono questi incastri, tutti questi personaggi, che è veramente difficile mettere insieme tassello dopo tassello per cercare di darne qualcosa di omogeneo che omogeneo non è, perché il film non lo è, è un film che può essere rigettato, che può essere, può dare repulsione, può essere così dato noioso, può essere tante cose, però se si è affascinati da un certo tipo di cinema estremamente ipnotico, ecriptico, enigmatico, c'è anche la possibilità di poter trovare interesse in un'opera di questo tipo che è imponente nella messa in scena, non c'è una inquadratura sbagliata, c'è una meticolosità proprio di messa in scena incredibile, la fotografia perfettamente studiata, a darci questi arancioni, questi marroni di un periodo e di una zona d'Europa raffigurati in una certa maniera, il sole non lo vediamo mai splendere, il sole probabilmente dà fastidio a Mia, e dà fastidio a questi personaggi, a Mia principalmente, ma chissà perché, non ci viene mai detto, è tutto da intuire, è tutto da esplorare, probabilmente quante visioni bisognerà fare di un film, di questo film, probabilmente saranno inutili, perché poi a un certo punto vedremo le stesse cose che abbiamo già visto e che ormai non danno una lettura univoca a tutto quello che voleva dire o non voleva dire la regista, perché potrebbe veramente mettere in scena una storia enigmatica con dei personaggi enigmatici, una storia che si può intuire come posso aver intuito io adesso cercando di esporla e che probabilmente si ferma lì, al di là di quello che non vuole essere, cioè non vuole essere un incastro perfetto, una serie di personaggi le cui vite sono sempre legate, si intrecciano in una situazione tra sogno e realtà, di rimandi e di narrazioni circolari che tornano indietro, ma il fatto stesso che Albert si ritrovi nello stesso, sullo stesso treno di Celeste, insomma un qualcosa, è il finale, dove Albert crede di vedere la moglie ma in realtà vede Celeste e che le si avventa contro e che lo sbrana in faccia, lo ferisce e ne stacca a morsi la carne a ricreare la stessa ferita che lui ha creato a Celeste con questo sfogo, ripeto, probabilmente contro una madre che lo ha abbandonato, perché poi Celeste quando guarda la foto di questo bambino in sottofondo si vede il quadro raffigurante ancora questa dimora, questa dimora che Albert, mia e la stessa Celeste hanno vicino nelle loro vicinanze e che Albert osserva appunto intravedendo l'immagine di un bambino abbandonato che va e viene, perché in realtà è anche qui un qualcosa che va oltre l'immaginazione o proprio è frutto dell'immaginazione di Albert che appunto ci racconta la sua storia forzatamente perché non vorrebbe raccontarla, non vorrebbe tirarla fuori tanto che nega l'evidenza, nega di aver avuto una moglie, nega di aver avuto una figlia anche se la figlia la porta e lui quasi forse se lo dimentica o rifiuta quella che è la realtà per i traumi subiti nel passato. C'è tantissimo, non so nemmeno se tutto quello che ho detto è sia e probabilmente è molto incompleto o vada fuori da quello che poteva essere il significato del film. Ditemi e provate a dirmi la vostra perché ogni interpretazione qua secondo me aggiunge qualcosa, non c'è il giusto o sbagliato, perlomeno presumo che non ci sia un giusto o sbagliato nell'interpretazione, ma può esserci tanto di più da aggiungere e tanto di più da scoprire nei piccoli dettagli, nelle singole inquadrature. Non le ho citate tutto, non ho citato tutto quello che avviene nel film perché altrimenti ne verrebbe fuori un video veramente troppo troppo lungo e probabilmente noioso, cosa che non voglio, che cerco e non voglio essere. Ditemi la vostra e commentiamo insieme e alla prossima!